A se stesso. Or poserai per sempre, stanco mio coro. Perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei. Perì. Ben sento in noi di cari inganni, non che la speme il desiderio è spento. Posa per sempre. Assai palpitasti. Non val cosa nessuna i moti tuoi. Ne li sospiri e degna la terra. Amaro e noia la vita, altro mai nulla. E fango è il mondo. T'acqueta ormai. Dispera l'ultima volta. Al genere nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te la natura, il brutto poter che è ascoso ha come un danno impera. E l'infinita vanità del tutto. A se stesso è un componimento di Leopardi molto breve, ma piuttosto significativo, di quello che è il cosiddetto ciclo di Aspasia. Cioè quel ciclo, appunto quel gruppo di cinque poesie dedicate a una donna, probabilmente Fanny Targione e Tozzetti, una signora che egli conobbe a Firenze, a cui fu legato da amicizia da parte di entrambi e da passione dal punto di vista di Leopardi. Una passione purtroppo mai ricambiata. In questi canti, in queste poesie, lui celebra l'amore come pensiero dominante, che però lo porta, ed è questo il tema di a se stesso in particolare, alla fine di tutti gli inganni, proprio perché anch'esso viene meno. È un Leopardi un po' diverso da quello che abitualmente conosciamo nelle poesie più note, a Silvia, a Serra di Difesta, eccetera. Adesso vedremo perché. Prima però vediamo cosa ci dice Leopardi dal punto di vista letterale. Ora ti riposerai per sempre, o mio stanco cuore, cioè mio animo stanco, stanco evidentemente di dolore. L'inganno estremo, l'ultimo inganno, è morto, è finito diciamo, perì però vuol dire più morire. Quindi è finito l'ultimo inganno, che io credevo eterno, si riferisce ovviamente all'amore. Morì, sento che in me è spento, è finito il desiderio, non solo la speranza, di cari inganni. Poi soffri almeno su questi cari inganni, comunque potremmo dire di inganni piacevoli. Posa per sempre, ritorna prima, riposati per sempre. Hai battuto abbastanza. Nulla, nessuna cosa, quindi nulla, vale i tuoi moti, quindi i tuoi, come dire, le tue passioni. E l'intera terra non è degna di sospiri. La vita è amaro, cioè dolore e noia, mai nient'altro, e il mondo è fango. T'acqueta ormai, calmati ormai, dispera l'ultima volta. Questo verso è di dubbia interpretazione, però dovrebbe voler dire, lascia una volta per tutte ogni speranza. Il fato non donò al nostro genere, cioè alla stirpe umana, altro che la morte. Ormai, tu, cuore sottointeso, disprezza te stesso, la natura, quel brutto potere che, nascosto, comanda per il danno di tutti, per il male di tutti. E l'infinita vanità del tutto, cioè il fatto che tutto il mondo sia vano. Allora, questo brutto potere potrebbe essere o la natura, cambia poco in realtà, potrebbe essere o la posizione della natura, la natura che è un brutto potere, ricordiamo la natura matrigna, diciamo che ha delle sue leggi che portano inevitabilmente il dolore di tutti, oppure qualcosa di leggermente distinto. La natura che matrigna e poi questo brutto potere potrebbe essere il fato. In realtà cambia poco, perché il concetto rimane lo stesso, cioè che inevitabilmente c'è qualcosa di superiore che porta al dolore di tutti. Questo concetto evidentemente non è nuovo, l'abbiamo già visto in tutte le poesie della seconda fase di Leopardi, nell'operette morale, il cosiddetto pessimismo cosmico, no? Ma cambia molto l'atteggiamento. Cominciamo a riflettere sul fatto che, mentre io leggevo, ho dovuto, perché me l'ha imposto, tra virgolette, Leopardi con la sua scrittura, spezzare continuamente i versi. Perché? Perché questi versi sono ricchissimi di punteggiatura, frasi brevi, quindi cesure che spezzano il verso, e anche in jambemain. Quindi di fatto la letteratura non è per nulla musicale. E siamo lontanissimi dalla forma musicale dei grandi idilli, per esempio, dalla musicalità di Asilvia. Tanto per fare un esempio, ma di tutte queste opere, no? Silvia rimembri ancora, quel tempio di vita mortale, quando beltà splendea, molto musicale. Qui, nonostante ci sono delle rime, in realtà c'è un'estrema aridità. Perché? Riflettiamo ancora su cosa manca. Noi sappiamo che per Leopardi è poetico, è bello ciò che è vago, ciò che è indefinito. Qui, di tutte le immagini poetiche, vaghe, a cui ci è abituato Leopardi, non c'è nulla. C'è invece una arida, disperata riflessione su se stesso. Questa è una caratteristica del ciclo di Aspasia. Ah, l'unico aspetto che è veramente diverso da tutte le altre opere del ciclo di Aspasia è la lunghezza. Le altre opere, le altre poesie sono piuttosto lunghe, questa invece è breve. Ma lo stile è questo, uno stile arido, rotto, spezzato, in cui ci sono frasi brevi, punti, come dicevamo, ci sono pochi aggettivi, soprattutto pochi aggettivi evocativi, ma invece una grande densità di significato. Se andiamo a vedere dal punto di vista retorico, tuttavia è molto costruita questa frase. Or poserai per sempre. Ci sono i termini che tornano. Qui si riferisce al suo cuore, volendo è un'anastrofe, comunque in realtà sta parlando con se stesso. Vedete, peri, peri, l'iterazione di peri. Parola chiave, cioè la morte, la fine di tutti gli inganni, viene ripetuta. Come anche poserai, posa, impolittoto, appunto, e che poi viene anche ripreso da taquieta ormai. Cosa vuol dire questo posa per sempre? Hai palpistato abbastanza. Forse la morte potrebbe essere, ma più probabilmente no. Si riferisce invece a quella calma che può venire dalla disillusione. Questo è l'auspicio che dà al suo cuore. Comunque andiamo a vedere. Or poserai per sempre stanco mio corpo. Poi punto, appunto, come dicevamo, peri, l'inganno estremo, che abbiamo detto essere l'amore. Che è un inganno, perché appunto anch'esso non porta a... non ha nessuna sostanza. In Aspasia, un'altra poesia di questo ciclo, Leopardi dice espressamente che quando l'uomo si innamora, non si innamora veramente della donna, ma si innamora invece di un'immagine che si costruisce. Comunque anche l'amore è un inganno. Questo fatto peri che eterno io mi credei. Qui c'è proprio un'antitesi, opposizione volevo dire, un'antitesi tra eterno e peri. Perché ciò che è eterno non può perire, ma è un inganno, appunto. È un inganno e io credei. In realtà anche questo, anche l'amore è un inganno. Non è assolutamente eterno, ma dura un tempo molto limitato. Poi peri, di nuovo, ben sento di noi. È spento il desiderio, non solo il desiderio, ma anche la speranza, di cari inganni. Qui ritorna la parola inganni con un'interazione, ma non è più estremo, bensì cari. Questi cari inganni sono l'unico cenno che qui abbiamo a una nostalgia del poetico, diciamo. Del momento giovanile, diciamo, in cui almeno nel momento dell'illusione, della speranza, si poteva essere parzialmente felici. L'idea del piacere, no, come aspettativa, come inganno, come immaginazione. E questi sono i cari inganni. Ma ormai questi appartengono al passato. Ormai la consapevolezza del vero, e quindi della durezza della vita, è totale. E non c'è più, non solo la speranza, ma nemmeno il desiderio di questi cari inganni. Appunto perché si sono rivelati come tali, come inganni. Posa per sempre, diciamo, ripresa di Poserai, con Polittoto, per sempre. Assai palpitasti, vedete questo fortissimo punto, e poi enjambement, hai battuto abbastanza. E qui inizia una seconda fase. Dopo la disillusione c'è un momento, una seconda fase della poesia, in cui lui, con uno slancio quasi titanico, guardi, disprezza tutto il mondo, tutto ciò che è vano, evacuo. E infatti dice, nessuna cosa, nulla, vale i tuoi sospiri, nemmeno la terra, l'intera terra, è degna dei tuoi sospiri, del tuo interesse. Perché la vita è amaro e noia. Qui è, vedete, tutti enjambement, 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 e noia. Anastrofe per mettere in evidenza questo concetto. Amaro e noia. La vita altro mai nulla. Cioè la vita adesso è soltanto dolore, cioè amaro, e noia. Non c'è più nessuno sprazzo di piacere. E il mondo è fango. Questa ovviamente è una metafora che dà l'idea di quanto sia vile il mondo, proprio perché tutte le illusioni non hanno più luogo e quindi siamo di fronte al vero, ma il vero, come sappiamo, è brutto, è spiacevole. T'acqueta ormai, dispera l'ultima volta, appunto, lascia ogni speranza. Perché? Perché il fato non donò agli umani che il morire. La morte, in questa prospettiva, è un dono, perché, sembra un paradosso, no? Però, visto che la vita non può essere che amaro e noia, allora cessare di vivere non può che essere un dono. E poi, rivolgendosi al cuore, c'è disprezzare, appunto, con questo distacco. Che cosa? Te stesso. Perché il cuore dovrebbe disprezzare se stesso? In realtà è quel se stesso che ha ceduto alle tentazioni degli inganni, dei cari inganni. Quindi deve prendere le distanze anche dal se stesso giovanile. E poi la natura, abbiamo detto la natura matrigna, questo potere che nascostamente comanda, questo è un latinismo, per il danno comune, proprio il contrario di quello dovrebbe fare un buon sovrano, o una buona madre, se vogliamo dire, se fosse una posizione della natura matrigna. E infine, chiusa solenne, l'infinita vanità del tutto. Infinita vanità del tutto è una chiusa solenne perché risuona la Bibbia, in particolare un verso celeberrimo dell'Ecclesiaste che è vanitas vanitatum e tomnia vanitas. Cioè, vanità delle vanità e ogni cosa e tutto e vanità. Cioè, Leopardi si rende conto alla fine e proclama che il tutto non è che vano e vuoto, appunto è illusorio. E' sì infinito, c'è un'infinita, è sì infinito, ma comunque inconsistente. Ecco, questo che richiamo è l'infinito, non deve ingannare, non c'è nulla dell'infinito poetico questo, è un'infinita vanità. Tutta la varietà del mondo, che in altri momenti del suo pensiero Leopardi aveva anche apprezzato, in qualche modo, anche se consisteva comunque in illusione, adesso è completamente negativo. Il riferimento biblico, ovviamente, non deve far pensare a una conversione dal punto di vista religioso di Leopardi, è un riferimento culturale, ovviamente, in cui si rimanda a questa considerazione che tutto è nulla. Nulla. In realtà, ovviamente, nella Bibbia, nell'Ecclesiaste, il riferimento è tutto è vano questo bondo in opposizione a Dio, per Leopardi, che è materialista, invece, tutto è vano e basta, e quindi non ci può essere che la morte. Ecco qui un esempio, quindi, della asprezza di questo ciclo, in cui la asprezza del lessico, della forma, dico del lessico perché effettivamente ci sono pochi, non ci sono questi aggettivi vaghi, indistinti, neanche questi nomi indistinti, in realtà, che tanto piacevano alle Leopardi precedente, dicevo, questa durezza della forma, spigolosa, composta di frasi brevissime, addirittura di una parola sola, ma comunque, o due, posa per sempre, tante frasi brevi, spezzate, questa sintassi spezzata, questo lessico arido, rimanda al sentimento, appunto, di disillusione e l'asperità che il poeta prova.